ciao a tutti e bentornati affezionatissimi carissimi oggi ci troviamo qua col primo giorno della seconda stagione di call of duty un bono warfare vediamo un po cosa hanno aggiunto in teoria hanno aggiunto una mappa un operatore adesso poi nel tempo aggiungeranno anche armi e cose del genere adesso andiamo a vedere perché io per questo ancora a passo non l'ho preso vediamo un attimo cosa hanno aggiunto spostare il computer terminal magari boom bitch in that face chi è che ricordi sta mappa il gas sta arrivando dobbiamo andarcene subito è ghost ho già visto io il personaggio l'operatore price qualcosa non va per dusk uccidono i loro stessi uomini dobbiamo scoprire perché inviami gente affidabile ghost chiudo c'è che ricordi sta mappa ora hanno messo le operazioni ora hanno messo le operazioni è sempre più basso allora sblocca la seguenza di compensa cos'è top secret ma vediamo operatori uuuuh finalmente vabbè questo però me l'ha sbloccato per i fatti miei a me ghost non me lo dà perché io ovviamente non ho pass cos'è oppure ottenendo cos'è oppure ottenendo è impossibile che non trova nessuno non dai il challenge is kill the enemy with their own weapon non you've gotta like so then with that gun yeah III l'ultimo . 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 si su gta o se vuoi venire a giocare anche qua mentre ce l'hai l'abbonamento quindi ok buon appetito catturate e difendete gli obiettivi stiamo prendendo Charlie Charlie in mano nostra ok 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 c'avevo la cassa di munizioni mi piace così mi piace mi piace a me la competizione che mi esalta dai andiamo hanno messo la rig si figa la mappa nuova fa cagare quello del supermercato no rast dico rast c'era già io non me la ricordo ti te la ricordi? si che si andava su qualcosa in mezzo però anche le armi hanno fatto qualcosa perché quando sparano in aria è normale che le nerfano si stendete a mano? no 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 ma che babbi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Provo... Grazie a tutti. 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 No dai. Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.